...i criteri che vengono, diciamo, però regolati dalle regolamenti romenti del progetto della possibilità regolatoria, no? Se facciamo delle cose, i principi sono regolati sempre di carattere. Tra queste attività che vediamo oggi ci sono questi due aspetti, uno è la dotazione per rispettabilità dei farmaci e il secondo è la dotazione di EOE che spiegheranno il collega e come vedete sono due presentazioni che si basano essenzialmente sui concetti di pericolosità delle sostanze, no? Per arrivare poi ai principi delle dotazioni del rischio. Allora, io vi parlo di questo discorso dell'embarimento del rischio esterno, del diabico, no? Allora, rischio esterno, cioè la dotazione del rischio, cosa significa? La dotazione del rischio dell'utilizzo finale, no? Questo è il principio generale, trasversale di tutti i regolamenti, compreso anche, per alcuni aspetti, il rischio esterno. Qui parliamo ovviamente di rischio ambientale e di principi attivi. Perché? Perché storicamente questo concetto qui deriva e viene esapplicato in altri regolamenti, come vedete da questo caso, nei frittosanitari, nei biocidi, nei farmaci di uso veterinario, in tutti gli industrial chemicals, con i soldi, diciamo, coperti da regolamenti richi, no? Tutte le sostanze chimiche, i cosmeti di detergenti e, non per ultimi, i farmaci di uso umano. Andiamo? Tendo a semplicare un pochettino, perché è una materia un po'... perché noi dobbiamo valutare il rischio ambientale e i farmaci? Come dice, cosa c'entra? Dobbiamo valutare il rischio di salute dei farmaci, no? Come viene fatto storicamente. Ma lo dobbiamo fare perché? Perché già fin dagli anni 90 si era visto che, ovviamente, i farmaci possono venire lasciati nell'ambiente, dopo il nostro utilizzo, come molecole soddificate, come metabolite, e nell'ambiente stesso possono essere degradati, quindi trasformarsi in qualche altra sostanza che possono avere delle capacità di rischio, no? Vedete qua, in quegli anni lì si era visto che ci sono circa 100 principi attivi trovati in ambienti acquatici, non in quantità altissime, in tracce anche solo, ma bisogna ricordare che qui le tracce possono essere significative per la pericolosità dell'ambiente acquatico. Quindi non pericolosi per la sottomana, ma legate agli effetti dimostrati nell'ecosistema. Come vediamo? L'uso lo dire. Tutto ciò si lega alla problematica, tuttora attuale, attualissima, dal punto di vista sia regolatorio che l'impatto proprio della salute, no? I pesciolini, di tutto ciò che vive nell'ambiente, dei cosiddetti interferenti endocrini. Gli interferenti endocrini sono delle sostanze, potenzialmente tutte le sostanze cliniche, potenzialmente, che possono avere qualche interferenza col nostro sistema ormonale, oppure col sistema ormonale delle specie acquatiche, per esempio, no? Le specie, comunque tutte le specie animali e anche vegetali che compongono l'ecosistema. Perché questo? Si era visto, per esempio, ci sono degli esempi in letteratura, no? Di pesci che avevano dei miraggi sessuali, no? Soprattutto vicine ai siti chimici, ai siti produttivi, farmaceutici, magari, no? Vedete qua? Le masche di carco o trote che producevano vitellogenina che normalmente portano solo da femmine. Perché? Perché lì, probabilmente, c'era una sostanza che agiva come interferente endocrini e andava a interferire con il sistema ormonale di questi pesci. Però cosa vuol dire interferente endocrini? Ma qui c'è una grande discussione tuttora presente a livello, diciamo, dei regulators, no? Europei o anche americani. L'interferente endocrini è qualcosa che va e ha una struttura, hormone-like, no? E' una struttura simile all'ormone che va, quindi, a interferire sul sistema ormonale e produce un qualche effetto avverso, cioè attiva dei meccanismi di tipo ormonale che producono quegli effetti avversi, non degli effetti normali, no? Immaginate andare a toccare sistemi ormonali che sono regolati da, non da dosi, come dice la tossicologia classica, ma da molecole, no? Quindi la molecola si inserisce con dei meccanismi recettoriali, no? E quindi che spalla, credo lette, un certo meccanismo. Immaginate ciò che rilasciamo, no? Ciò che le donne rilasciano nell'ambiente, le donne che prendono qui l'autico eccezionale, che tipo di rilascio nell'ambiente possono avere, no? Ormai diffuso questo tipo di uso, quindi, cioè queste sostanze vanno nell'ambiente. Cosa fanno? Possono agire come interferenti, come andocca in incerti, possono agire. Allora, perché il farmaco, come dicevamo prima? Il farmaco, storicamente, arriva molto in ritardo rispetto al prodotto chimico sul discorso del rischio ambientale. I primi rischi ambientali e i prodotti chimici si sono fatti negli anni 70-80, mentre il farmaco lo si studiava, forse in fericolazione. Ok, il farmaco quindi viene somministrato, agisce nell'organismo, no? Viene excreto, vale i reflui, vale l'impianto di trattamento delle acque, può essere soggetto scarsa di regolazione, quindi essere immodificato tra l'ambiente come tale, o no, quindi il discorso della molecola è modificata e può essere rilasciato dove? Nelle acque, essenzialmente le acque superficiali oppure anche nei segmenti. Questo è un po' il principio del perché. C'è una linea guida che dal 2006 ci impone, per alcuni tipi di prodotti, che vedremo di fare questa valutazione del rischio, come questa qua, del Lema del 2006. La valutazione del potenziale del rischio ambientale posto dai medicinali, i prodotti medicinali dovrebbero essere, dovrebbe essere salmite, cioè, siamo relazionato e sottoposto, no? L'impatto deve essere valutato, should be assessed, deve essere valutato, con un principio case by case, quindi non c'è una regola generale per questo lavoro. e questo deve portare a degli arrangements, quindi delle azioni, diciamo, che limitano l'impatto ambientale di queste sostanze. Questo è il principio generale, quindi devi fare la valutazione per limitare l'impatto di queste sostanze quando è presente nell'ambiente. In ogni caso, però, tutto l'impatto dice, questo impatto non costituisce il potere per il refusal, no? Per lo stop nella marketing authorization. Quindi fai tutto un lavoro di valutazione del rischio, se questa sostanza viene comunque rischiosa per l'ambiente, questo non ti blocca la marketing authorization e farlo. Devi semplicemente, in virgolette, indicare che questo non può essere smaltito, no? Normalmente, ecco questo, che è qualcosa che avviene già. Questo è un discorso che si lega al DMF del prodotto, no? Non su tutti i prodotti viene fatto questo tipo di richiesta, ma solo in questi casi, no? Quindi per tutte le new marketing application, per il type to variation, eccetera, eccetera. Non si ha prima per valutazione di tipo minore e soprattutto sono esclusi certi tipi di, chiamiamo di sostanza, attivi, perché non sono considerati di per sé essere rischiosi per l'ambiente, vitamine, elettroliti, aminoacidi, peptidi, proteine, granulaturati. E tutta, poi anche la serie dei vaccini e dei prodotti da erbio, no? Per la cura dei loro componenti. Cioè questi non sono considerati di default essere pericolosi per l'ambiente. Quindi non si apriva questo tipo. Si applica invece, ovviamente, per tutto il discorso dell'uso, dello stoccato e dello smaltimento. Non si applica per i generic, per i modified organisms, perché loro hanno una loro particolare direttiva, anzi, linea guida. Allora, il lavoro che vi dicevo che bisogna fare qui è un lavoro estremamente scientifico, quindi che parte, quando si approccia a un lavoro di questo tipo, bisogna vedere tutto l'insieme, no? Dei dati che io ho sulla sostanza, l'attività farmacologica, la tossicità degli animali, le differenze tra effetti aguti e cronici, perché possono essere significativi della tossicità, i livelli traumatici e, come ho già indicato, attenzione particolare ad alcune classi particolari di sostanze, per esempio gli armoni, no? E questi hanno, facciamo, una trafila particolare. È un approccio step by step, step by step, è case by case, perché, no? Step by step perché, naturalmente, si va avanti con delle valutazioni sempre più, diciamo, sofisticate, fino a che riesca a arrivare alla valutazione finale di rischio o di mancanza di rischio. Quindi anche qui, molto spesso le società dicono, ci chiedono quanto costa questo lavoro, è una risposta a cui non si può rispondere. Quindi può costare 2.000 euro se fai solo il primo step, come, in alcuni casi, più di 400.000 euro. Perché abbiamo dovuto fare studi, su studi, su studi, no? Questo è un po' velocemente cosa dice la linea guida. Non entriamo troppo nel tecnico, però, per dirvi che, diciamo, fanno delle fasi diverse. La prima fase è la cosiddetta schiva dell'esposizione ambientale, molto limitata. Le fasi 2, A, etare A, etare B, vedete, sono veramente delle predizioni del rischio che si fanno in base anche a degli studi ecotossicologici un po' più sperimentali che si fanno. Quindi una vera e propria valutazione del rischio. prima fase è molto semplice, per virgolette, semplice. Cosa si va a stimare nella prima fase? Si va a stimare a due cose. Essenzialmente se la sostanza può persistere nell'ambiente, perché tenete presente che una sostanza nell'ambiente può essere tossica, può essere, quindi, essere tossica proprio, non so, nei pesci, no? per un carattere di tossicità, come tossicità acute nell'uomo, no? Oppure persistere, cioè stare in un certo compasso ambientale, oppure essere bioaccumulabile, cioè rimanere nella prima catena, per esempio, nella catena alimentare, no? E poi biomagnificare, può arrivare, cioè accumularsi nelle varie specie di maglie, in realtà può arrivare anche all'uomo, no? Quindi, nell'uomo, la concentrazione iniziale è molto più alta, questo biomagnifico, no? E poi il calcolo della BEC. Per fare la persistenza, che il primo valore che si va a vedere, si fa l'efficiente di partizione, l'otanolo-acqua, no? Molto semplice, se la sostanza si riparte di più nell'otanolo, vuol dire che ha un potenziale di bioaccumulo, se si riparte più nell'acqua, è più probabile che sia, se è tossica, ha più effetto tossico nei pesci, per esempio. Quindi, l'efficiente di bioaccumulo si fa sperimentare, se è superiore al 4,5, si considera la sostanza potenzialmente persistente. Qua si va avanti, la seconda fase è la PEC, Predicted Environmental Concentration, concentrazione ambientale predetta. Cioè, qua dobbiamo stimare quanto di questa sostanza c'è un certo compartimento acquatico, o suolo, o un segmento. si fa attraverso una formulina, vai sull'alto, molto semplice, in prima battuta, molto semplice, il cui risultato è poi molto restrittivo, quindi si mette in relazione la dose, diciamo, dell'API, no? La dose dell'API iniziale, vedete che è al numeratore, con questa FPEN, che è un valore di penetrazione del mercato, su che cosa? Su un fattore di waste water, di acqua, di consumo, per abitante, è un fattore di produzione. No? Io calcolo queste cose qua. Il valore che viene fuori da queste cose qua, non va? Se inferiore 0,01 microgrammi litro, prima parliamo con il dottore di impurezza, ma questo qui è molto peggio, molto peggio, quindi se la mia PEC calcolata è inferiore a 0,01 microgrammi litro, la linea qui dice che io non ho effetti di rischio in ambiente, e mi fermo di questo. Quindi qua spendo e devo terminare perché sono molto sereno, no? C'è un fattore grafico, eccetera. Se invece la mia PEC calcolata è sull'Aiolio 0,01 microgrammi litro, devo andare avanti con la valutazione e fare altre teste. Perché devo andare a fare un vero copio di XSR. E qui comincia il dolore dal punto di vista anche economico, perché devo andare a fare, questa bella roba che c'è scritto qua, devo andare a fare tossicità in più, diciamo, sulle alghe, sulle darmi, sui pesci, sui franghi, devo andare a vedere l'assorbimento, il test di assorbimento e desassorbimento del suolo, dei sedimenti, eccetera, eccetera. Questa fase qua, questo è giusto, 100 mila euro. Ma perché devo andare a fare i test? Perché una vera e propria valutazione di rischio mette in relazione, mette in relazione, questa risca che l'utilizzo non resta, mette in relazione che cosa? La PEC valutata, cioè un po' quanto, di questa sostanza non è l'ambiente, con la PNEC, che è la Credit Non Environmental Concentration, cioè è la tua soglia di sicurezza, quella sotto, no? Quindi se io ho una PEC superiore alla base di sicurezza, ovviamente ho un rischio, maggiore di uno, quindi ho un rischio, no? Se al contrario ho un minore di uno, non ho un rischio, perché ho una PEC, che ho calcolato, più bassa del colore di sicurezza, quindi sono tranquilla, no? Per calcolare tutta la PNEC io ho bisogno di tutti quegli studi ecotossicologici, se sono nella condizione che ho un rischio, in questa fase qua, devo andare avanti e fare un 5 minuti, ok, te la faccio, devo andare avanti e fare ulteriori studi, perché cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a raffinare il valore del denominatore, no? Più ho studi tossicologici, più inserisco sotto la risprenza, più abbasso il valore di questa benedetta PNEC, abbassato la PNEC, ovviamente vado verso un rapporto più favorevole, ok? E qui al primo altri studi, quindi, il sole, il micro-organismo, tutta la parte delle piante terrestre, i vernici, quanto sono tossici, quanto è tossicolo i vernici, con l'embola, che è una pianta di fiume, dei studi di sedimenti, eccetera, eccetera, tanta roba. Anche di giocare, ecco. Certo, in questo caso, non di giocare, però, in genere, più studi aggiungo, no? Se, ovviamente, la stanza la ne è ipertossica, più riesco a volutare, a raffinarsi, più refiner, no? Il valore della PNEC, quindi vado verso un rapporto più favorevole. In questa fase qua, posso anche divisionare la PEC, cioè, la partita di invariamento e concentrazione, con calcoli, con altre cose, con la parola di biodegradazione, e l'abbassarsi. Quando, nelle fasi iniziali, ovviamente, nessuno, né tanto meno la linea guida, parla di possibili metaboliti, perché una sostanza, come ho detto all'inizio, può essere rilasciata all'ambiente, con il metale, no? mother compound, in un tempo di modificato, oppure sui metaboliti. Se arrivo nella fase avanzata della valutazione, la linea guida mi chiede anche di valutare, e di avere lo stesso approccio sui metaboliti, che eccedono il 10%. Ok? E' descritto. E quindi, devo fare tutta questa operazione qua, anche sui potenziali metaboliti. a noi non è mai successo, no? Alcune non è mai successo. Succederà. Succederà, perché abbiamo un caso adesso. E' un caso di malfi, non si vede. Eh, esatto. No, il problema qual è? Che se c'è metabolita, o due, che superano il 10%, devi fare tutte queste cose sul metabolita. Quindi immaginate anche la difficoltà di fare la sostanza, cioè, la sintetizzare la sostanza per fare gli studi, no? Non c'è uguale come la precedente. Ovviamente, se non posso escludere, se dopo tutta questa votazione non posso escludere il rischio, devo scrivere questa cosa sulle SPC, lo sapere il prodotto caratteristico, e in realtà tutto ciò tende a imporre il diritto di disperdere il prodotto in ambiente, no? Ok? Allora, qui c'è una marea di considerazioni, di cui non entro nel merito adesso, perché in realtà, le aziende dicono, ma ti devo fare tutto questo lavoro, spendere le tue che ci sono, per semplicemente dire, non ti spiegherò in ambiente, allora lo scrivo subito, eh no? Se la società non è d'accordo, se tu vai a finire in Germania, come è successo in due o tre casi, i telescrivoli, dicono, tu ti studi gli acotopsicologici, no? Poi, abbiamo avuto anche un'esperienza che non è che ne sappiano n'è più di noi, tutto sommato, però la società ha l'autorità, quindi se lo viene, tutto affatto. Questo l'ho già detto, attenzione alle sostanze che hanno un valore di coefficiente alta, perché sono persistenti, no? Il problema della persistenza dell'ambiente è un problema serio, no? Adesso ho fatto, pensate quando le sostanze persistenti ci sono, no? Attenzione, persistenti, ci sono anche casi storici, ecco, poi, dopo questa linea a rile, che vado a rilevare, veloce, no? Per esempio, sono uscite due documenti, questi nell'altro, una nel 2010, una nel 2011, che hanno definito alcuni aspetti anche della sperimentazione, no? Non entro adesso nel merito, vi dico solo perché, perché prima del 2010, questa linea a rilema era del dicembre 2006, in quei tre anni lì si sono fatti molte di queste valutazioni con dati bibliografici, no? Infatti, no? Uno cercava un po', se è bravo, cercare i dati, dava un po' di valutazione, diciamo, usare la biblioteca del dato e riusciva a fare un rischio assieme abbastanza accettato. Dal 2010, con queste, queste nell'altro, nel 2010-2011, si è poi richiesto formalmente di fare gli studi, no? Quindi non possiamo più fare tutte le certe bibliografiche, non si può neanche fare, se voi andare, scopri un po' avanti, ma, 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 non si può neanche fare, in questo caso, con i famosi metodi di predizione, cioè, l'ERA non accetta metodi di predizione, sapete cosa sono, Il metodo di QSA è una struttura, attività, no? No? Le replichiamo quotidianamente, però, quando facciamo gli ERA non possiamo farlo, se non, per, come utilizzo, di screening, no? Quindi, qualche alert, di risultare sulla damia o di persistenza, di vercumulo, dove non ci possono essere, però, non possiamo, formalmente, usarli nel dossier, che presentiamo, all'autorità competente. Un altro speggio, è il punto qua, è il fatto che, il tipo di, diciamo, di severità, nelle richieste, da parte dell'autorità, dipende molto, dall'autorità, che sta facendo, questo controllo, sui dossier, dei nostri clienti, per esempio, la Germania, il UK, la Marga, che sono un piccolo più, sono molto demanding, come si dice, quindi, vogliono tutti i studi, tutte le valutazioni, c'è per sé. L'Italia, noi non abbiamo avuto casi, però, ci risulta che non chiedono, ovviamente, nulla, però, questo, cosa ci porta a dire? Allora, o abbiamo qualcosa di armonizzato, europeo, per cui, se io vado in Germania, spendo 200, e di spendere anche l'Italia, se no, siamo di nuovo, così, in un mondo un po', un po', molto, non armonizzato, che può essere un vantaggio, ma può essere un grande, smantaggio per l'azienda, o per i mercati, per i freddi. Vuol dire che, tutto qua, sono andato un po' veloce, però, quello da, benito, cipo, di queste progetti, in realtà, cipo, la ventina, nessuno, guarda l'altro, perché, alcuni si fermano pochissimi, si fermano, nella fase iniziale, ma oggi, grazie. Ringraziamo il dottor Ponte, Grazie. Grazie. Grazie.